Ciao a tutti, sono Barbixanax e questo sarà un video velocissimo perché sto per uscire e sono già in ritardo di mezz'ora. In realtà sono JustLuke e stavo per registrare questo video chiuso in una macchina. Questa è la mia bellissima faccia e ora vi faccio vedere le magliette di Trash Poraccio che sono bellissime. Oggi farò l'estrazione del giveaway Poraccio del fantastico JustLuke. Vorrei la sigla della carra ma non posso averla. Sono arrivati in totale 622 commenti e volevo ringraziarvi perché siete stati adorabili. Oddio come scialo in questo momento. Vi spiego velocemente come verrà l'estrazione. Se viene un numero tra 1 e 282 andrò su YouTube perché lì ci sono 282 commenti effettivi. Facciamoli vedere come se fossimo alla ruota della fortuna, ok? Poi su Facebook ci sono 145 post, quindi vincerà uno di Facebook se viene un numero tra 283 e 427. Dove sto andando? Ok. Facciamoli vedere un po'. Bla 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 bla. Ok ok ok. Ok, questo non c'entra niente, uno dei ciuffi rossi. Ah, ovviamente mi ero già preparato a questi calcoli, ovviamente non sono un genio in matematica. Su Twitter invece c'erano 195 tweet. Ora non carica più quelli vecchi ma comunque ho fatto gli stampa in giorni scorsi. Quindi andrò su Twitter se uscirà un numero tra 428 e 622. Ah, e ho deciso che conterò dal basso, cioè in ordine cronologico. Ok, andiamo su random.org, mettiamo 622 come massimo, suspense, 300. Allora, oddio, 300 è un commento di Facebook. Quindi partiamo da Mirko che è il primo, quindi il 283. 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 300. Lorenzo Melloni che scrive chi se ne frega bitch. Ah, che bello, è pure dell'Emilia Romagna, come me. Ok, quindi a questo punto facciamo come Arby Sanas. Yeah! Complimenti, stasera ti contatterò privatamente. E ora un messaggio per tutti gli altri. Non fate i taccagni e comprate una maglietta che tra poco ci sarà il contest di Mr. e Mr. Poraggio. Vi lascerò il link qua sotto comunque. Niente, volevo anche parlarvi di prostitute e preti col cazzo piccolo ma lo farò un'altra volta. Ciao!